Terzo pareggio consecutivo per l'Avellino che alla Spezia riesce per l'ennesima volta a lasciare indenne il picco ma alla fine mastica Amaro per aver gettato al vento l'occasione di invertire il suo trend. Per la prima volta in questa stagione Attilio Tesser si affida al 4-3-2-1 escludendo Tavano dall'undici titolare rilanciando Gavazzi in mediana e posizionando Insigne con Bastienne alle spalle di Trotta. Sul fronte Spezzino Bielizza lascia invariato il suo 4-2-3-1 con Calaiò terminale offensivo. Dopo un gol annullato a Gidai oscurato da Infront i Liguri pigiano sull'acceleratore e chiamano frattari agli straordinari. Il portiere è superlativo quando respinge una conclusione dalla breve distanza di terzi che Bastienne ben appostato sulla linea di porta riesce a ribadire in corner. A cavallo del ventesimo minuto sempre l'ex Cosenza fa disperare prima Catellani e poi Calaiò. Nella prima circostanza il numero uno ci mette la punta del piede su un destro a colpo sicuro. Nella seconda quando Calaiò lascia di stucco l'imbarazzante Ligi vola nell'angolino basso per tirare fuori la palla dalla porta con la punta delle dita. Per lo Spezia è il momento migliore anche perché Ligi soffre maledettamente Calaiò e Chirzi approfittando dell'amnesia dell'ex barese per poco non fa secco frattali con una repentina volé. Quando la situazione sembra precipitare tuttavia Gidai ci mette la testa e fa esplodere i 250 tifosi irpini arrivati al picco. Il suo colpo di testa è perfetto e per Cisizzolla non c'è nulla da fare. Lupi in vantaggio al tè e ripresa che si riapre con Chiosa al posto di un'impalpabile insigne. L'Avellino passa al 3-5-1-1 mentre lo Spezia lancia nella mischia Nenè. La gara diventa scoppiettante anche se stavolta è a partire forte e l'Avellino che guadagna subito il fondo con Visconti. La sua palla per Bastienne è perfetta al pari del piatto destro del belga che il portiere di casa si ritrova a neutralizzare con una parata distinto. Sul fronte opposto Chiosa commette un'ingenuità madornale e per poco Rossi non ne approfitta. Bravo anche in questa circostanza frattali che non abbocca alla finta evitando il contatto. A furia di premere tuttavia i locali trovano il pari quando al cronometro mancano 11 minuti alla fine. Nenè nella circostanza è lesto, bravo e coraggioso nel correggere in rete una sponda di terzi. Per frattare stavolta così come per Nica e Chiosa appostati sulla linea non c'è davvero nulla da fare. Subito il pari, Tesserra non si scompone e rilancia inserendo Mokulo al fianco di Trotta. Il congolese di passaporto belga appena messo piede in campo riesce a scodellare una palla d'oro per Gavazzi che di controbalzo scheggia la traversa. Nemmeno il tempo di disperarsi però che l'Avellino rischia di capitolare perché il brasiliano Nenè offre a Catellani il più comodo degli assist che il numero 10 manda stamparsi sulla traversa. Uno a uno anche in termini di legni colpiti a parità perfetta tra due squadre che alla fine masticano entrambe Amaro. Quello del picco però è per Spezia ed Avellino un punto di speranza e ripartenza.